Siamo lo stand Wisman qui a Monaco, fiera molto partecipata, presentiamo in anteprima quello che è il sistema OneBase, sistema basato su tecnologia Wisman che comprende il fotovoltaico, il sistema di accumulo e il sistema di ricarica. Questo inoltre dialoga con le pompe di calore della Wisman per poter unire tutta la parte di produzione e autoconsumo dell'energia. L'obiettivo è quello di avere una piattaforma unica con la quale il nostro cliente si possa avvalere della produzione da energia fotovoltaica, la possibilità di accumularla, di utilizzarla in casa per sia il riscaldamento e il raffrescamento della propria abitazione, ma soprattutto anche la possibilità di utilizzare questa energia prodotta a costo zero, in quanto deriva dal sole, con la mobilità elettrica. Quindi il sistema prevede anche la possibilità di andare a ricaricare le auto e il tutto in modo intelligente, cercando di dare anche le priorità in funzione di quelle che sono le esigenze. Quindi siano esse esigenze di riscaldamento o raffrescamento, quindi la prima esigenza è quella di avere il comfort domestico, poi eventualmente di caricare l'auto e in ultima istanza, nel caso in cui ci sia ancora eccedenza, anche di stoccare l'energia nelle batterie per poi utilizzarla in un momento a posteriori, la sera, la notte, e quindi aumentare l'autarchia dell'abitazione.